Posso spostarti un po' così? Questo rappresenta il sole che esplode e forma i pianeti. Praticamente ci sarà anche la terra. Invece questi sono bronzi, libri in bronzo che si aprono e raccoltano la loro storia. Questo è il libro sul circo, come vedi, cavalli, clavo, diacrobati, tagliacci, eccetera. E se questa è un'altra roba a servire, rappresenta San Martino che darà un mattello al pomero. Un problema di bocca, diciamo. Eh sì. Questa è un'altra roba a servire. In bronzo che si apre e rappresenta la scala verso la luce, verso il sole. E qui c'è un cavallo, il sole sempre, e qui la scala verso il sole, con dei personaggi. Sempre un libro bello. In bronzo che si apre e si apre invece di brucetto rossa, pinocchia, patina, nano, biancanele. E questo libro si apre con il mio fiato. Questa invece è azzurla. Azzurla. Siccome che ho fatto un'autolitica leggera, ero azzurla, allora ho molto rotto nella stessa. Lei che desidera tanto un figlio, c'era nella testa, nel ventre, questi uomini che si aggrappano per fecondarla. Maternità. Questi altri pranzi. Ecco, vedrà. Così. Bello questo qui. Sì. 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 Allora. Cosa è la mia professione. Questo qui. Per questo la mia professione. Sì, siamo già riusciti con lì, c'è con la dina da dietro e tutta lì. Ugo Lino, sta lì, ora mi hanno invitato, se fengo, ecco, forse mi va bene, ok.